Resta stabile il quadro dei contagi nei comuni del Vesuviano. Secondo l'ultimo bollettino di ieri sera, a Torre del Greco sono state registrate quattro nuove guarigioni, certificati anche quattro nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 556esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 92, totale guariti dal Covid 6.747, totale decessi 176. A Torre annunziata invece due nuovi casi di contagio nelle ultime 48 ore a fronte di 100 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 2%. Non si registrano guarigioni. Sono 27 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ore sono 50.845. L'incidenza di nuovi positivi a sette giorni per 100.000 abitanti nella settimana che va dal 4 al 10 ottobre è pari al 12,09. Sono 4.632 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.511 guarite e 94 decedute. Per quanto riguarda invece i dati della regione Campania, sono 208 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore su 17.829 test effettuati per un indice di contagio pari all'1,16%, in netta discesa rispetto al dato di ieri. 5 le vittime nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 18, in aumento di 4 unità rispetto a ieri. Quelli di degenza 177 a fronte di 3.160 liberi.